amici di basket italy bentornati in questa nostra nuova puntata per quanto riguarda le nostre puntate che potrete vedere qui su youtube per quanto riguarda il nostro campionato di serie a che si è giocato questo sabato e questa domenica sui campi della nostra serie a e non ci ha lasciato poche sorprese ma parecchie cose parecchie carne a fuoco che approfondire approfondiremo a brevissimo sembra l'ospite che presenterò a momenti ovvero il ritorno del nostro bomber prima punta d'attacco quasi un un cavara schele ausi man visto le sue origini partenope e quindi dol bentornato a jack ciao ciao nicolò e un abbraccio a tutti gli amici all'ascolto e alla visione di basket italy grazie e bentornato jack però prima di partire io ricordo a tutti i nostri fan i nostri follower i nostri coloro che ci seguono assolutamente che siamo anche su tutte le piattaforme di podcasting qua sotto trovate tutti i link per accedere a tutte le piattaforme appunto su quale potete trovarci spotify audible podcast insomma ce ne sono veramente tantissime e noi siamo su tutte le piattaforme quindi laddove voi preferite se non volete vederci ma volete ascoltarci vi è possibile farlo e visitate qua sotto i tutti i link ovviamente ricordo anche di supportarci con un bel mi piace questo video un commento se volete come dire aiutarci a migliorare sempre di più e iscrivervi al nostro canale youtube bene già che direi che abbiamo fatto gli onori di casa e partiamo immediatamente col parlare di questa giornata di basket che è stata complessivamente la ventitraesima e so che tu volevi fare un commento generale sulla giornata giusto è una giornata molto interessante direi nicolò siamo siamo nelle battute finali della regular season ma c'è ancora tanto da decidere sia nella zona playoff sia nella zona retrocessione è una giornata che non ha non ha lesinato sorprese diciamo che sicuramente la la sorpresa più clamorosa della giornata viene dal campo di brescia non per il valore di brescia che ormai nessuno può mettere più in discussione come avevamo fatto noi qualche settimana fa diciamo dando per spacciata la squadra lombarda nel nel cammino in coppa italia visto anche il insomma il pessimo momento in campionata invece poi ci ha smentito tutti la squadra di coach magro andando a trionfare a diciamo nella nella ghermessa per quello riguardo alla seconda competizione nazionale vincendo la coppa italia e battendo proprio milano quindi la sorpresa di ieri una sorpresa fino a un certo punto nel senso che insomma brescia in pratica si è ripetuta contro narmani jeans però è una diciamo è una sconfitta quella della della squadra delle scarpette rosse si diceva una volta abbastanza sorprendente visto il momento che che milano stava vivendo insomma in grande spolvero vittorie sia in campionato che in eurolega una striscia di vittoria in eurolega coincisa con l'arrivo di shabazz nepe di un ricordo che proprio tu facessi notare come l'impatto di questo giocatore ex mb fosse stato devastante sul nostro campionato e sull'eurolega ma si è rivelato ancora più determinante di quello che noi stessi avevamo potuto pensare visto che milano era praticamente fuori dai giochi per quello che riguarda le playoff in eurolega e oggi invece ha concrete possibilità ancora di qualificarsi proprio grazie diciamo alla striscia messa in piedi da quando da quando nepe è arrivato a giocare in maglia in maglia olimpia quindi diciamo era davvero impronosticabile questa questa sconfitta che invece è arrivata sul sul parquet della germani che si è imposta con un 83 a 74 abbastanza netto dopo un primo quarto in realtà dove milano sembrava poter agevolmente scappare chiuso sul 21 a 11 quindi con una grande difesa da parte del della squadra di coach messina che però ha subito poi più di 70 punti nei restanti 30 minuti quindi sicuramente l'attacco di brescia ha ricominciato a funzionare e diciamo nel nel a cavallo del dell'intervallo nel secondo nel terzo quarto brescia ha scavato poi quel vantaggio in doppia cifra che le ha consentito di imporsi di vincere di vincere questa partita e quindi di dare uno scossone alla parte bassa della classifica dove in realtà la vittoria di brescia non è stata l'unica delle squadre in zona delle processioni che chiaramente avvicinandosi nelle battute finali del campionato devono darsi una mossa e quindi sono state altre vittorie importanti sicuramente quella di diciamo quella di scafati e soprattutto direi per fortuna di napoli quella di napoli a trento napoli che chiaramente nel momento delicatissimo con i vari quattro sconfitte negli ultimi cinque partiti comunque una striscia negativa abbastanza abbastanza insomma netta che 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 lasciava presagire poche speranze specialmente dopo la sconfitta molto pesante sia per il punteggio che per diciamo la l'importanza della partita da Reggio Emilia sia la sconfitta interna della scorsa settimana quindi questa vittoria rilancia le ambizioni salvezza della squadra di coach Pancotto e molto anche anche importante appunto la vittoria della Givova di coach dell'ex coach napoletano Sacripanti che quindi insomma si lascia un attimino alle spalle la zona retrocessione che invece in questo momento è occupata proprio da dalla Tezenis Verona e da da Reggio Emilia sconfitte a Varese e a Venezia della sconfitta di Verona a Varese sicuramente ci parlerai tu più approfonditamente dopo e il chiudere un po' il quadro di questa di questa giornata in cui la zona diciamo a cavallo a ridosso delle prime due comunque la zona playoff è abbastanza in movimento due due vittorie di due squadre che sembrano davvero in grande spolvero e sono rispettivamente l'Eppi Casa Brindisi e diciamo che ha vinto contro una squadra che era in grandissima forma che è appunto la squadra della compaggine di Treviso e invece poi il banco Sardegna Sassari che si è confermato nel suo grandissimo momento di forma andando a vincere contro una squadra di grandissima levatura come appunto Dertuna quindi un campionato che ci continua a riservare sorprese che promette equilibrio in certezza in tutte le zone della classifica fino alla fine. Questo mi sembra di poter dire che è una sintesi abbastanza diciamo oggettiva del una fotografia del nostro campionato in questo momento. Esatto sì, è stato un weekend di palacanestro molto molto bello da vedere con questa sorta di insomma Brescia e Milano si erano già sfidate in Coppa Italia con lo stesso praticamente lo stesso esito. Milano non è riuscito anche a ribattere quello che è successo appunto a Torino. Poi sì abbiamo avuto sorprese qua e là insomma è stata una giornata molto molto calda Io il primo argomento che ti propongo e che mi propongo perché ci siamo accordati che come dire ne parlerò più approfondamente io diciamo che come dire arriva da un commento di un nostro fan perché perché noi insomma come ha detto in apertura stimoliamo sempre perché i nostri follower ci aiutino loro stessi a migliorarci e ringraziamo tutti ringraziamo tutti gli amici che danno il loro contributo con commenti, osservazioni, spunti di riflessione certo. Esatto e la settimana scorsa è arrivato un commento sul video appunto della scorsa giornata che trovate appunto sul canale, video di mercoledì scorso laddove un nostro fan ci ha appunto fatto notare che non abbiamo quasi mai parlato apertamente di Treviso e siamo qui oggi appunto per farlo. Forse non è la giornata migliore per parlare di Treviso perché purtroppo ha perso di 23 lunghezze contro Brindisi ma mi viene da dire che comunque insomma Treviso malgrado comunque incappata nella giornata no perché per esempio vado a leggere il tabellino leggo 5 punti di Adrian Banks forse troppo pochi per dire la forse vera e propria punta di diamante di questa squadra seppur come dire non più un ragazzino 5 punti, due assi e due rimbalzi forse per un giocatore che te ne potrebbe fare anche in giornata un 20-25 forse è troppo poco quindi mi viene da pensare che il primo cavillo che ha trovato sulla sua strada Treviso sia quella di un Adrian Banks parecchio poco in luce mi venerebbe da dire e per il resto comunque una direi buone prove di Sorocas ex Varese che firma non dico una doppia a doppia ma quasi con sei rimbalzi tre assist e 17 punti e anche il Quantounen con 12 punti, sei rimbalzi e tre assist. Dall'altra parte invece c'è stata una grandissima prova corale di Brindisi che porta a casa ben ben sette uomini in doppia cifra tra cui Perkins, Lamb, Mascolo, Reed, Mezzanotte, Bowman e Harrison D'Angelo Derrison ormai direi ufficialmente rientrato dopo il doppio infortunio che aveva avuto ultimamente e una grandissima appunto prova corale con veramente Brindisi che è riuscito a ottenere il massimo da tutti i suoi giocatori e anche grandissimi percentuali al tiro addirittura ha tirato col 48% da tre punti complessivamente il 14 su 29 quindi praticamente quasi uno su due da... Percentuali del genere è chiaro che poi si scava un sulco poi ti lascio completare l'analisi sulla partita però mi sembra di poter dire anche per rispondere al nostro amico che ha commentato giustamente insomma ci ha un po' bacchettato giustamente nelle precedenti settimane l'incidente e la battuta d'arresto di treviso di questa giornata non deve togliere merito a quanto fatto dalla squadra di coach Marcelo Nicola nelle ultime settimane treviso era pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere e hanno in realtà una bella striscia di vittorie che l'hanno messa in una zona adesso relativamente ovviamente tranquilla io ho avuto modo di seguire la partita di qualche settimana fa molto importante di treviso del palaverde da treviso e Napoli treviso comunque ha portato a casa una vittoria importantissima contro la Gevi in un finale convulso per una vittoria di strettissima misura però ha rilanciato appunto le ambizioni di questa squadra che poi ha inallenato ancora due o tre vittorie consecutive quindi direi nulla toglie questa battuta d'arresto al cammino, allo scorcio, diciamo al gioco di ritorno se vogliamo, ecco, molto positivo messo in piedi da treviso fino ad adesso esatto, tra l'altro sono andato a vedere in modo tale che così se dovesse vedere questa puntata almeno lo salutiamo, il nostro fan che ha commentato si chiama Cimetti The Real insomma ti salutiamo e abbiamo appunto abbiamo accolto il tuo commento abbiamo accolto il tuo commento con grande gioia ed eccoci qua appunto a fare i treviso e ti promettiamo che ne riparleremo un po' di più diciamo da questa settimana a venire giusto Gianco? assolutamente sì perché comunque insomma è una delle protagonisse in positivo del campionato e quindi sarà nostra cura seguirla con grande attenzione a questo punto invece possiamo dire Niccolò l'altra squadra in grande spolvero del periodo del giro di ritorno se vogliamo è proprio la Dinamo Sassari che insomma il nostro Niccolò Cascioni saprebbe dirci molto meglio di quanto proverò a fare io e modestamente adesso insomma qual è il momento che la squadra la squadra Solana sta a vivendo direi un momento estremamente positivo una squadra che era ai margini della zona playoff dieci partite fa contestata e contestatissimo il suo allenatore coach Bucchi si diceva appunto che magari il suo periodo a Sassari era arrivato a Capoli in realtà nelle ultime dieci partite nove vittorie una grandissima prolificità offensiva e ambizioni playoff assolutamente rinnovate anzi direi un attacco neanche troppo velato alle primissime posizioni della classifica visto e considerato che la vittoria di ieri arriva contro una delle squadre migliori nel complesso del nostro campionato quella Bertram Bertona che stabilmente occupa la terza piazza dall'inizio praticamente della stagione regolare una vittoria abbastanza netta dopo un primo tempo piuttosto equilibrato chiuso addirittura con gli ospiti avanti 40 a 39 un grandissimo diciamo terzo quarto della squadra di casa di Sassari che con un parziale di 27 a 16 quindi con ben 27 punti segnati in un solo quarto ha in pratica indirizzato la partita e poi gestito nel quarto quarto vinto comunque di Misura quindi diciamo ha tenuto assolutamente a bada le velletà di rimonta della squadra di coach Lamondin una squadra che ha portato a ben 5 uomini in doppia cifra con un Dao e un Kruslin da 15 punti un Benzus diciamo MVP dell'incontro sicuramente con 22 punti in 29 minuti e con un diciamo clamoroso 6 su 14 da 3 punti quindi con un 43% da 3 punti una squadra che ha saputo quindi ancora una volta dimostrare un'eccellente prolificità offensiva più dentro appunto a quota 84 e tenendo a 72 un attacco sempre insidioso come quello di Dertone e quindi appunto Sassari che si rilancia al quarto posto a solo le quattro lunghezze dal terzo posto della Bertram che quindi insomma mira a come dire a salire sempre di più a conquistare una piazza sempre più utile e comoda nei playoff e poter magari sfruttare al meglio il fattore di campo nei primi turni a quel punto contro squadre come Bologna e Milano che stiamo vedendo ogni tanto le loro battute dal resto le hanno sicuramente Milano in questo momento anche forse un po' distratta dall'impegno di Nero Lega dove dovrà approfondire il massimo sforzo per cercare di arrivare ai playoff comunque insomma Sassari se la gioca alla grande se la gioca fino alla fine e mai dare per morto un coach come Piero Bucchi che a Napoli conosciamo molto bene quindi insomma ci sorprende fino a un certo punto la resurrezione della squadra della squadra isolana questo penso di poterlo dire tranquillamente esatto quindi riassuntivamente Sassari due mesi e mezzo fa era tredicesima con 5 vinte e 8 perse a due punti dalla 2 ad oggi la squadra Sarda ha collezionato 9 vittorie in 10 partite con 97 punti di media 7 partite 20 di fila con 20 punti di scarto di media sui avversari quarto posto in generale prima classifica nelle ultime 10 giornate quindi direi una totale rivoluzione nella stagione poi le squadre di Bucchi quando trovano la giusta chimica diventano estremamente pericolose in attacco ricordo la Carpisa di Lingrier che era veramente una macchina da canestri Bucchi è stato sempre un allenatore che ha lavorato molto sulla fase difensiva sicuramente però quando poi riesce a trovare la giusta chimica tra gli americani poi ecco vengono fuori situazioni come questa una squadra che fa negli ultimi 10 partiti fa 90 e passa 97 davanti e passa punti di media ieri comunque 84 contro Tortona che sembra una squadra molto attenta in una fase difensiva testimone di una grande salute di una grande intesa e di una grande brillantezza in attacco insomma degli uomini a disposizione del coach ex Napoli Roma Virtus eccetera eccetera Milano eccetera un giramondo delle panchine che comunque ancora una volta fa valere la sua esperienza Sassari di nuovo ad altissimi livelli esatto Jacques siamo arrivati a metà della nostra puntata e qui voglio fare una piccola menzione piccolissima poi riprendiamo immediatamente con la nostra trasmissione riguardo a quello che è successo al termine di una partita di under 15 a Vicenza dove un genitore è sceso in campo e ha preso per un braccio protestante sta tornando una giovane una ragazza arbitro molto giovane presa per un braccio appunto per alcune chiamate probabilmente dubbie del giovane della non so come di giovane arbitro non c'è il femminile di di arbitro e diciamo che vogliamo esprimere tutta la nostra comunque indignazione verso questo gesto che un papà ha cominciato a fare nel giro d'Italia voglio dire questa notizia bisogna condannare con grande fermezza questi gesti io credo che sia il momento di interrogarci a livello profondo perché questa è una problematica che tra l'altro molto spesso io seguo il basket da tanti anni lo sai ma seguo con altrettanta passione forse si potrà intuire anche il calcio molto spesso il basket guarda agli episodi di violenza di intolleranza anche nei confronti degli ultras o nei confronti dei giovani arbitri con una certa sufficienza dicendo che queste sono cose tipiche dell'ambiente calcistico io credo che la maleducazione che la inciviltà non abbia quartiere non abbia nazionalità e in questo caso non abbia cittadinanza né nel basket né nel calcio purtroppo questa è la dimostrazione che non dobbiamo abbassare la guardia e pensare che l'ambiente del basket in quanto sicuramente frequentato da persone di alto profilo e quant'altro non è esente non è esente da queste problematiche problematiche che sono lo specchio di un malessere profondo nel nostro paese non voglio adesso cimentarmi in trattati di sociologia però sicuramente qualcosa non va se siamo in un mondo dove molto spesso gli insegnanti vengono presi di mira dai genitori degli alunni che non rispettano più il ruolo che hanno di educatori e allo stesso modo i genitori dei giocatori non capiscono quanto sia importante la figura dell'arbitro ragazzi e uomini che comunque vivono lo sport con la medesima passione che chiaramente possono sbagliare tutti noi quando vediamo una partita di calcio vediamo un interiuve possiamo ironizzare quanto vogliamo però insomma dai tutto c'è da credere sempre nella buona fede degli arbitri specialmente quando parliamo di ragazzi giovani che sicuramente non hanno grande visibilità non prendono chissà quali rimborsi spese lo fanno esclusivamente per la passione del gioco che vivono in questo modo bisogna imparare a rispettare il prossimo a rispettare i figli degli altri genitori i giovani arbitri tutti quanti e a saper rispettare il proprio ruolo davvero è una questione di civiltà di educazione dobbiamo porre l'accento su queste cose altrimenti in un mondo sempre dove la maleducazione è sempre più tollerata il bullismo è sempre più accettato sui social in particolare si accetta troppo passivamente molto spesso la maleducazione l'insulto gratuito è importante il segnale che anche gli arbitri hanno voluto dare mi sembra che sia stata una specie di gesto di solidarietà con delle X mi sembra di aver capito sulle divise degli arbitri assolutamente siamo favorevoli a queste manifestazioni e condanniamo con fermezza questi gesti cercando di ricordare a tutti noi che siamo io personalmente tu lo sarai te lo auguro tra qualche anno ma io personalmente sono un genitore al rispetto dei ruoli che è fondamentale e all'educazione che dobbiamo dare ai nostri figli e a noi stessi innanzitutto esatto infatti in merito alla X che hai prima nominato gli arbitri hanno tutti commentato con se colpisce uno di noi colpisci tutti noi hanno voluto chiudere con questa frase e con la X che poi hanno portato sulla loro casacca da gioco questa domenica e questo sabato cambiando argomento e appunto facendo questa chiusa doverosa che riteniamo di fare su questo accaduto mi sposterei a Varese Verona direi una gara molto scoppettante da più punti di vista come tutte quelle Varese oserei dire caro Nicolò perché quando vedo vedere perdonami faccio una paretisi molto rapida ma quando vedo giocare la Varese davvero mi riconcilio col basket il basket che mi piace tanti tiri pochi possessi lunghi spettacolo insomma è davvero sempre un piacere vedere la Open Job Men's esatto sembrava di vedere quasi un incontro non dico playoff però molto simile perché comunque anche Verona ha aggredito molto la partita perché secondo me anche il fatto che questa squadra di Varese io lo vedo sempre quando scende in campo come dire sembra quasi che condizioni un po' gli altri a giocare anche gli altri ad alti ritmi e faccio sempre l'esempio della sfida se non erro era appunto contro Napoli che a metà partita era tipo eravamo quasi 62 no 56 62 mi sembra all'intervallo se non erro sì sì Napoli mi pare fosse super i 60 punti esatto Napoli che ne segna segnava all'epoca di qualche partita fa 77 di media quindi vicinissima al suo record stagionale per farvi capire di quanto questa squadra Varese che ha imposto il suo gioco sul segnare un canestro in più degli avversari praticamente quanto corra e questo implica anche che corrano anche gli avversari il problema è che tante volte gli avversari non hanno la stessa benzina che a Varese esatto a Napoli è successo esattamente questo non abbiamo avuto modo di parlarne nel podcast però quello che ho visto a Palazzetto è stato esattamente questo una squadra che ha imposto un ritmo talmente elevato e se l'altra squadra non ha la maturità di capire che deve cercare esattamente di fare l'opposto ma invece va dietro al ritmo di Varese può fare anche un primo tempo da 60 punti ma poi ne fa 30 scarsi nel secondo cioè voglio dire è chiaro che Varese è pensata è costruita immagino ma si vede allenata per giocare a quei ritmi quindi anche da un punto di vista della brillantezza fisica mentre invece le altre squadre non giocano normalmente a questi livelli e quindi finiscono per sfiancarsi per arrivare col fiato curto magari anche quando ti manca qualche giocatore nelle rotazioni ancora di più questo è quello che è successo a Napoli immagino sarà successo questo anche nella partita di ieri ma ce lo puoi dire meglio di tutti tu esatto sì ieri una partita appunto che è stata un copione di questo che abbiamo appena detto dove la vettura di Varese diciamo non è mai stata scontata essendo che comunque il primo quarto è totalmente in favore di Verona infatti è finito 15 a 27 per poi Varese comunque ha poi cercato di ricucire nel secondo quarto anche se è stata pur sempre in svantaggio dopo di che Varese diciamo si è presa la gara negli ultimi due tempi rimasti con complessivamente 55 punti segnati 30 nel terzo 25 nel nel secondo a discapito dei dei soli 45 di Treviso comunque e di Treviso scusami di Verona comunque mi viene a dire che non mi sembrava di giocare dico sembrava perché ero presentato di giocare contro una penultima o un'ultima perché mi pare che si appare in merito con Correggio una squadra assolutamente in salute quella di di Verona che secondo me ha delle buonissime chance di salvarsi cioè io ho visto un Capelletti un Simon un nuovo acquisto anche un Devin Davis niente male tu lo conosci bene Devin Davis è un buon giocatore quando è in condizioni fisiche diciamo accettabili in grado diciamo di giocare sui due lati del campo ma soprattutto di essere bidimensionale in attacco sia da sotto che da lunga distanza esatto quindi ho visto veramente una squadra che è riuscita anche a tenere di seri timi Varese poi insomma Varese ha preso il largo però veramente una squadra che mi ha veramente stupito e ho pensato che potessero davvero fare il colpaccio e non avrebbero rubato niente che davvero ha fatto veramente una signor gara quelli di di Verona di Coccio Ramagli bene già siamo arrivati all'ultima l'ultimo argomento della nostra serata che è probabilmente il cioccolatino di serata laddove parliamo di Trento Napoli e della vittoria di Napoli ma si guarda voglio fare un commento velocissimo poi ti lascio visto che tante volte ci siamo detti anche nelle nostre chat che come dire la situazione era un po' cominciava a fare un po' pesante e a me comunque mi sembra di capire che la squadra c'è comunque la squadra è viva ma guarda devo dirti la verità dopo le ultime due partite a Napoli c'era c'era un grande pessimismo l'ultima partita l'ultima sconfitta interna contro Brindisi era stata vista diciamo in modo abbastanza la squadra è uscita tra i fischi per l'altra volta la squadra è uscita tra i fischi perché l'ultimo quarto in particolare era stato insomma particolarmente sconcertante una squadra che si gioca la salvezza e che era riducita da una partita veramente disastrosa quella di Reggio Emilia in un match veramente fondamentale e cruciale per la salvezza una sfida diciamo tra la penultima e l'ultima in pratica persa malissimo senza praticamente mai giocare arrivare al terzo quarto in vantaggio di qualche punto contro Brindisi e poi cedere di schianto mi pare che Napoli abbia fatto 31 a 11 una cosa del genere di parziale nell'ultimo quarto davvero aveva lasciato tutti con la mare in bucca io in un altro contesto con alcuni amici tifosi e col grande ex capitano Mimmo Morena aveva avuto modo di commentare questa partita ecco Morena aveva dispensato parole da capitano invitando il pubblico a stringersi attorno alla squadra e a rimare tutti nella stessa direzione perché comunque c'era ancora da fare la trasferta di Trento era una trasferta chiaramente vista in modo proibitivo perché Trento è una squadra che sta in piena zona playoff che lotta per i playoff e sta giocando anche le coppe europee aveva perso di misura d'Hamburgo e aveva giocato molto bene contro Dertona quindi ci si aspettava una partita molto difficile però Napoli va detto questo nelle ultime partite ha un calendario davvero tosto e quindi questo rende ancora molto complicato il cammino salvezza degli uomini di coach Pancotto e quindi questa trasferta era vista non dico come l'ultima spiaggia ma come una delle poche partite diciamo da poter vincere fermo restando che poi Napoli dovrà andare a Bologna a Milano e si giocherà speriamo io dico si giocherà speriamo per Napoli qualcosa nell'ultima giornata praticamente a Verona contro la Dezenis che mi confermi tu è una squadra molto in salute ma come tutte le squadre che devono salvarsi oggi stanno dando tutte l'anima perché comunque Reggio a Venezia se l'è giocata Scafati ha vinto contro Trieste che è una squadra una signora squadra e si è rilanciato dopo alcune sconfitte dopo l'ennesimo cambio di allenatore oggi in panchina a Scafati c'è un signor coach come Stefano Sacrivante insomma che a Napoli abbiamo imparato da conoscere e personalmente a stimare tanto quindi è chiaro che la lotta sarà senza quartiere questa partita per Napoli era importantissima Napoli la affrontava senza Zanotti che ancora fuori per motivi disciplinari senza praticamente senza Joy Young che ha giocato pochi minuti più per un ultimo che per altro per un virus intestinale in realtà però virus intestinale che sembrava aver colpito anche Jordan Howard che in realtà è stato praticamente il mattatore dell'incontro ha fatto una partita per i vecchi tifosi di Napoli ricorderanno ha fatto una partita alla Mike Pembert cioè veramente ha cominciato a tirare da tre punti da tutte le parti e a metterla praticamente sempre la più bella è stata una tripla con fallo con palla che praticamente preso il secondo ferro si è inerpicata sul tabellone e poi è scesa a piombore la retina sì sì ma Giamma è stato un colpo di fortuna diciamo che ha risposto a un'altra tipa piuttosto fortunata a fine terzo quarto di Trento che sembrava aver rimesso un po' in gioco la Dolomiti in energia diciamo che Napoli ha dimostrato subito di essere viva e direi tu mi hai parlato di Devin Davis che Napoli ha allontanato per non meglio precisare i motivi di scimulare non ci addentriamo nelle problematiche che hanno causato questo allontanamento di un giocatore che resta un buon giocatore ma Napoli nello spot di quattro quest'anno tra Emmitt Williams Devin Davis eccetera ha avuto a Gravani ha avuto una serie di distitudini enormi però va detto che secondo me ha trovato la quadratura nel cerchio con Wimbush che è alla quarta mi pare partita anche stavolta prestazione molto solida meno appariscente stavolta per quello che riguarda i punti segnati ma secondo me assolutamente diciamo di sostanza soprattutto appunto della leadership Napoli ha finalmente un giocatore che non ha paura di prendere la palla in mano nei momenti che scottano sicuramente la sua capacità di attaccare sempre il canestro di prendere spesso il fallo comunque insomma di sapere anche guidare il contropiede ho visto fare un paio di canessi su palla rubata e contropiede uno contro zero quindi insomma un giocatore che si sa prendere le sue responsabilità è un ex Rubin insomma è un ex Zenz San Pietroburgo quindi un giocatore che è abitato a giocare palcoscenici importanti e mi sembra che abbia dato davvero anche una certa tranquillità al resto della squadra probabilmente col passare delle giornate la sua leadership sarà sempre più riconosciuta all'interno del gruppo e questo potrà rendere diciamo ancora più efficace e tranquillizzare ancora i più compagni che potranno sentirsi più tranquilli Napoli ha giocato una partita finalmente su 40 minuti che era quello che Pancotto aveva diciamo auspicato e si era curato perché Napoli nelle ultime partite specialmente in casa era crollata nell'ultimo quarto nelle trasferte precedenti dopo un primo quarto quasi sempre incoraggiante era diciamo aveva accettuto di schianto a cavallo del secondo e del terzo per poi smettere completamente di giocare stavolta è rimasta in partita anche stavolta in un paio di occasioni quando sembrava avere inerzia della partita dalla propria non è riuscito a fare il break decisivo subito però è rimasta praticamente sempre avanti con un ottimo Giordano ha decattato canistri soprattutto dalla lunga distanza ma anche qualche canistro in avvicinamento insomma dal pitturato diciamo un winbush molto solido un Williams che stavolta è riuscito a essere più efficace anche in difesa ma che ha fatto come al solito un'ottima prova un'ottima prova in attacco perché comunque insomma adesso non ricordo precisamente quanti punti ha fatto ma siamo ampiamente superiore la doppia cifra 18 punti il solito grande contributo con l'80% sì 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 18 punti per Giacori Williams mentre 28 di Howard sono stati effettivamente un 7 su 10 da 3 voglio dire veramente per Mertiano da questo punto di vista diciamo un Williams da 18 punti e 8 rimbasi quindi sicuramente doppia doppia ma veramente una partita di grande sostanza e un David Mishinot con un eccellente 7 su 9 da 2 17 punti ma devo dire mi è piaciuta molto la sua capacità stavolta di essere un po' meno irruento e diciamo poco lucido nelle penetrazioni lui è un giocatore che ama penetrare ma stavolta spesso ha saputo trovare il canesso con uno step back con un arresto e tiro quindi variando un po' le soluzioni e questo sicuramente ha un po' destabilizzato la difesa avversaria che è abituata ad andare per la stoppata visto che lui è uno che scarica anche poco quindi diciamo che Napoli ha giocato con più lucidità nonostante un 59% il solito disastroso 59% ai liberi ma 27 tiri liberi tirati è un indice di grande pericolosità in attacco ha costretto molto spesso al fallo gli avversari e Napoli questa è la notizia ed era un po' la grande incognita secondo me della partita contro una delle migliori squadre a rimbalzo di tutto il nostro campionato c'è contro Trento ha vinto la sfida a rimbalzi 33 a 31 anche con 7 rimbalzi offensivi contro i 9 di una squadra che ne prende tanti in attacco come Trento quindi Napoli ha saputo questa volta andare con la giusta cattiveria con la giusta attenzione anche da parte dei piccoli a rimbalzo lo testimoni di 4 rimbalzi proprio di Michinou se vogliamo oltre ai 5 di Zerini e di Wimbush che comunque sono gli altri due lunghi della squadra quindi voglio dire sicuramente una prova di squadra con una rotazione anche limitata praticamente con 8 effettive solo 3 lunghi di ruolo quindi voglio dire una prova che fa ben sperare Napoli per il proseguo di un campionato che resta difficilissimo e questo però Napoli penso che ormai lo sappia molto bene infatti ripeto c'è grande attesa per la partita di sabato contro Brescia Napoli cercherà di battere Brescia e tenerla ancorata alla zona retrocessione per cercare di coinvolgere le più squadre possibili nel bailamme delle ultime giornate quindi questo è molto importante diciamo per quello che riguarda Trento una prova sicuramente sottotono con l'unica eccezione di Grazulis che è partito molto forte ha fatto 7 punti probabilmente nei primi minuti poi un po' limitato dai falli comunque nel finale è stato tra i pochi a salvarsi a fare 18 punti Atkins ha perso nettamente il duello contro Giacori Williams nonostante delle cifre non pessime 11 punti 8 rimbalzi ma Williams è un giocatore che qualcosina in difesa concede sempre questo va detto Spagnolo e Flaccatori gli unici italiani a dare qualcosina in più tre tipi da Crawford insomma Trento ha avuto un po' pochino ed è sembrato una squadra un po' scarica questo sicuramente tante palle perse ma questo è un problema che Trento ha all'inizio dell'anno 12 palle perse sono davvero tante Napoli ne perde 10 ma anche Napoli è una squadra che è abituata purtroppo a perdere tanti palloni però sicuramente questo è un dato che ha pesato nella sconfitta di Trento Napoli nell'ultimo quarto proprio con le tripli di Howard con delle buone soluzioni di Miscino ha scavato come raramente le succede quel solco andando sopra la doppia cifra di vantaggio e quindi riuscendo nel finale a gestire anche diciamo l'ultimo ritorno di fiamma della squadra di casa della Domini di Energia che insomma alla fine ha chiuso otto punti mi pare con otto punti di margine 79 87 ma insomma voglio dire Napoli ha controllato abbastanza agevolmente nell'ultimo quarto e ci apprestiamo a vivere quindi un campionato anche nelle parti basse della classifica è estremamente avvicente questo sicuramente esatto io direi anche tra le fila direi un'ottima prova forse un ritrovato Miscino assolutamente l'ho sottolineato prima e fai bene a sottolineare 17 punti per un giocatore che comunque con Pancotto va detto ha ritrovato una certa vena un giocatore è un playmaker atipico sicuramente un giocatore che fa un po' fatica a mettere i ritmi compagni che è un po' monodimensionale dal punto di vista delle scelte è un giocatore che penetra molto e scarica poco però è un giocatore dal fisico importante e dal talento offensivo sicuramente importante quello che deve cercare di fare è cercare di essere un po' più lucido nelle scelte molto spesso lui carica a testa bassa e non si rende conto perché sapendo che lui penetra sempre spesso lui viene raddoppiato e questo lo penalizza e subisce sempre due o tre stoppate a partita stavolta mi sembra di poter dire da quello che ho visto che è stato più lucido nelle scelte molto spesso non è andato in penetrazione fino in fondo ma si è fermato per un arresto e tiro per un hesitation per un fade away e quindi quando tu fai qualcosa di diverso rispetto a quello che la difesa si aspetta è chiaro che poi la metti in difficoltà devo dire che in questo senso Mishinou che con Pancotto si è rivitalizzato con Buscavia faceva molta fatica è stato tra i grandi protagonisti della serata il terzo miglior marcatore di Napoli sicuramente uno dei più positivi bene Jack direi che abbiamo parlato di tutto insomma di quelle relazioni salienti di questa giornata io ti ringrazio per essere tornato e ti invito ovviamente a tornare le prossime volte ti ringrazio grazie a te Nicolò è sempre un piacere commentare con te il nostro campionato e ovviamente vi ricordo di seguirci come ho detto in apertura su tutte le piattaforme di podcasting iscrivervi qua al canale commentare condividere insomma fate quello che volete basta che ci fate a sentire vostro apporto non importa come lo fate basta che lo fate poi decidete voi come e vi rimando alla settimana prossima ciao ciao